è stata data un'incombenza visto che c'è tra noi non solo un presidente ma un grande campione che purtroppo non c'è verso mai di migliaia di tempo perché alla gara sociale casca sempre ti ringrazio tutto il consiglio direttivo chiaramente un bel applauso a Silvio un bel applauso non tanto per il Stapino ma per tutto quello che fa per lo sci club e per lo sport dello sci è veramente un piacere avere degli amici come voi che frequentano le nostre piste noi cercheremo anche a livello promozionale di essere sempre presenti di darci sempre più da fare sempre più possibile sicuramente anche l'anno prossimo la promozione dei bambini a un euro sarà ripresentata visto il grande successo che ha avuto quest'anno e quindi sarà un'occasione di più anche per tutti voi per chi ha amici, chi ha bambini, chi ha bambini come Silvio però sarà un'occasione di più per avviarli allo sport dello sci e per portarli in montagna a fare grazie